La storia comincia qui, nella casa del mio datore di lavoro, il grande attore comico Enrico Marcullo, l'uomo che mi voleva bene come un padre. E questi? Buttali nel cesso! Ma non c'è un posto per sedenzi scusi? Un posto per sedenzi? Ma che sei un professore, un onorevole, un centravante? Veramente io sono il mio senso? Ma perché? Che ho detto? Tu hai detto il commentatore, ma quando Guarfunzi l'hai andato qua e trambato in faccia, fai che la proprio vite. Ah perché te i pugni in faccia fa ridere? Sì, allora riti! 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 Ehi, fermo! Ma che vuole? Riti dentro pure lei! Ma no, guardi che non sono schiaffi schiaffi, sono schiaffi cinematografici, è una finzione, sono schiaffi d'artista. Mio cugnato è contento di averli presi perché certamente ha imparato qualche cosa. E ho imparato a farmi i cazzi via! Ma chi era? Sta l'operatore! E che te credi che era la discoteca? Fermi tutti! Fermi tutti! Sempre avvicinato, mi butto! Dai, buttate! E buttate! E buttate! E buttate! Eccola! Oppure questa è, mo' fregato, ca' finestra vinta!